Sì, è stata un'attività importante quella della squadra mobile di Modena e contestualmente, come dico sempre, anche della collaborazione tempestiva della procura di Modena. Sono due situazioni che si sono sviluppate nell'arco di brevissimo tempo. Domenica scorsa il fermo del cittadino marocchino per una rapina aggravata avvenuta appunto domenica mattina intorno alle 5.30 nel centro di Modena, dove una coppia di giovani ragazzi è stata avvicinata appunto dal soggetto che li ha minacciati con un coltello cercando appunto di prendere i propri effetti personali. Il rifiuto da parte della ragazza ha portato a generare una collutazione dove poi invece il compagno per difendere appunto la ragazza è stato accoltellato sulla gamba destra e in volto. Ha riportato delle lesioni importanti con una prognosi di 30 giorni. Sono partite immediatamente le attività di indagini e hanno portato a rintracciare il cittadino marocchino che intanto si era recato presso un altro ospedale, anche lui probabilmente a seguito della collutazione, per ricevere delle cure immediate. La ricostruzione poi attraverso le immagini, il recupero anche del coltello utilizzato per colpire il ragazzo e il riconoscimento da parte delle vittime poi ha portato immediatamente a procedere ad un fermo d'iniziativa appunto da parte della squadra mobile. Contestualmente sullo stesso soggetto la squadra mobile stava già lavorando e aveva circoscritto degli episodi criminosi che erano avvenuti sempre a Modena e infatti ieri il cittadino marocchino è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dove viene contestata una rapina venuta a Modena nei confronti di un ragazzo sedicenne, anche in quel caso accoltellato al fianco sinistro. Una vicenda particolarmente grave dove c'è stato un inseguimento anche con una volante il 18 luglio speronando appunto un'auto di servizio in quanto il soggetto era stato trovato a bordo di un'auto rubata e poi un scippo avvenuto nei confronti di una giovane ragazza nel centro storico di Modena. Sul soggetto si sta ulteriormente approfondendo e si sta continuando ad indagare in quanto ci sono probabilmente altri episodi criminosi avvenuti nelle ultime settimane che sicuramente lo vedono coinvolto. Sicuramente chi ha subito queste tipologie di reati nelle ultime settimane, queste rapine da parte di un soggetto spesso armato di coltello o anche dei furti con strap particolarmente ben localizzati anche in alcune zone della città sicuramente si può rivolgere ovviamente alla Polizia di Stato e verificare se poi vi possa essere una sorta di corrispondenza con il soggetto. Grazie a tutti!